Qui accanto a me questa sera vedete un padre messicano, non so se capite che è un messicano, però da qualche connotazione dell'aspetto si capisce che viene dall'America Latina, precisamente dal Messico. Come altre volte in parrocchia, ma non solo nella nostra parrocchia, abbiamo un aiuto a Natale, Pasqua, ai morti e anche d'estate di un sacerdote giovane che fa gli studi universitari ecclesiastici a Roma presso le università pontifice e quando sono chiuse le scuole giustamente devono fare le vacanze e una maniera per far loro una vacanza utile è quella di entrare in qualche parrocchia dove vedono un'altra esperienza diversa da quella del Messico, sempre nell'alveo della comune fede e della cattolicità, però con delle tradizioni, modi pastorali da condurre in avanti. È utile per loro questo arricchimento, è utile per noi parroci che magari anche adesso d'estate c'è un movimento di persone, c'è un celebrante in più, uno in confessionale che attende alla penitenza e quindi è utile per loro, è utile per noi. Ora adesso voglio far parlare padre Eduardo che ci dica innanzitutto della sua origine, del suo paese preciso, magari facendo sognare qualcuno per le vacanze, se non quelle di quest'anno che ormai si sono già involate e organizzate, magari altri anni, il posto dove abiti e le celebrità almeno della tua provincia e poi cominciamo a sentire questo. Sono Edoardo Contreras Ramos, sono dal Messico, della città del Veracruz, porto, un porto commerciale, la diocesi così si chiama, Veracruz. Sono qui perché il mio vescovo mi ha chiesto di fare un studio. Come ha detto Monsignore Bernasconi, è utile imparare un'altra cultura, è sicuro imparando la lingua italiana, in questo periodo si approfitta, è certo per vedere soprattutto come si vive, come è l'esperienza, come è la fede della gente in questi popoli. Per me personalmente è un'esperienza molto ricca, che uno impara un altro rito anche in questa zona di Milano, che è il rito ambrosiano. In Messico la fede si vive bene, soprattutto con la gente che ha esperienza di Dio. Nella mia diocesi è caratterizzato sempre per il turismo, per la città, per il porto, un porto turista. Ci sono le spiagge, anche no, che arriva tutta la gente, l'acqua bella della spiaglia. Ci sono parti che uno può andare, una parte più pericolosa, dunque un'altra meno pericolosa. Però questa esperienza, senz'altro che è un'esperienza ricca per me. Penso che per i miei compagni altri, del collegio messicano, che ci siamo a Roma, io studio la licenza in filosofia. Manca un anno, poi torno a giugno del 2001, per insegnare presto al seminario, come professore ordinario. Un'ultima cosa che mi preme che dica, per quel poco che lo conosco, parla e dice che è qui per lo studio della filosofia, però ha anche un'esperienza di tipo canora, tipicamente messicana. Vuoi dire qualcosa su questa tua, sulla tua musica? Come mai sei così portato? Sì, prima di essere sacerdote da parte del seminario, si dà un'opportunità per studiare musica. Ho studiato la musica durante quattro anni, soprattutto nel periodo di vacanze, che sono un po' lungo, e poi imparare la musica e cantare. A me piace la musica tanto che faccio tutto lo possibile per trasmettere un po' alla gente la musica, il messaggio, con la musica, con il canto. Questo da parte della mia famiglia è una ricchezza anche, per la famiglia da parte del mio papà, tutti, la maggioranza sono musicisti. Quindi qui adesso ho avuto un'esperienza di cantare alla gente alla festa di Pagnano, qui nella Tombola, la domenica scorsa, prossimamente un concerto che si farà a Scarena. Il primo settembre ho avuto un'esperienza, non aspettavo questo, dopo tornare dalla Germania, mi aspettavo a Cantamalgrate, questo spettacolo a Cantamalgrate, ho partecipato lì con una canzone del Messico, tutta la gente era molto contenta, molto contenta. Molte grazie a tutti voi, molte grazie per ricevermi una volta più qui in questa patria tan bonita, tan bella, che è l'Italia. Un applauso e pido a Dio per tutti. Molte grazie. Grazie, grazie, buonasera. De nada.